E che uno dei più grandi inganni nell'approccio che tutti quanti abbiamo nei confronti dell'alimentazione è il concetto di calorie, cioè se l'organismo ragionasse semplicemente in termini di calorie, vale a dire in termini matematici, dovrebbe essere chi mangia molto e è grasso e chi mangia poco dovrebbe essere magro. Ma in realtà vediamo che non funziona assolutamente così, perché c'è gente che mangia quanto gli pare e non ingrassa e altri che pur mangiando poco tendono con facilità ad aumentare il panicolo di poso. Per questo può aprire il discorso a mille sfaccettature, però va da sé che il concetto di calorie è oggi come oggi di gran dunque superato, cioè è un parametro di riferimento ma non ha assolutamente un valore assoluto. Scusate la ripetizione, non ha un valore assoluto, perché l'organismo ragiona in termini ben diversi, c'è tutto un discorso di risposta ormonale all'approccio dei macronutrienti. Quindi ogni volta che noi andiamo ad assumere i macronutrienti abbiamo una risposta ormonale. Quando assumiamo i carboidrati la risposta ormonale è produzione di insulina, quando assumiamo le proteine la risposta ormonale è produzione di glucagone, che è l'antagonista dell'insulina. Ricordiamo che questi due ormoni lavorano ad asse. Possiamo paragonarli al termostato del riscaldamento. Quando noi impostiamo il riscaldamento in un range minimo e massimo, quando il riscaldamento scende al di sotto del livello minimo, a questo punto parte il termostato e fa partire la caldaia. Per quanto riguarda l'organismo, a questo punto scatta il glucagone e fa rialzare la glicemia. Se invece il calore va oltre a quello che noi abbiamo preimpostato, scatta il termostato e disattiva il riscaldamento. In questo caso, riportando il discorso all'organismo, l'organismo produce insulina che è un ormone ipogligemizzante e quindi abbassa la glicemia.